Ci spostiamo a Bruges, è il 15 settembre del 1976, ancora il primo turno e vediamo Club Bruges-Steawa-Bucharest, il rigore al 51esimo è per la squadra di casa in maglia bianca, il Bruges lo trasforma Davis al 51esimo, 1-0 per il Bruges. Ancora occasioni, poi al sessantesimo vedremo i rossi dello Steawa che vanno in gol con Introi, Introi gol al sessantesimo 1-1, poi all'ottantaquattresimo arriva il vantaggio di Verec, nuovo vantaggio del Bruges che al ritorno pareggerà 1-1 in casa della Steawa e passerà il turno, gol di Verec, 84esimo 2-1.